Un episodio sfavorevole, poi nella ripresa si è fatto molto bene e si è messo un buon tassello, un uso altre parole, per raggiungere la terza finale consecutiva. È una bella vittoria costruita, era tanto che non davamo un svantaggio, la squadra ha dato una bella risposta a livello mentale sotto quell'aspetto lì e di questo sono molto contento. Il primo tempo era difficile far peggere il primo che abbiamo sbagliato tecnicamente tutto quello che c'era da sbagliare. Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Errori tecnici, magari anche il modulo un po' disorientato ai ragazzi all'inizio? Il modulo era uguale, la differenza è che abbiamo preparato la partita con la costruzione di Atom 3, però non riusciamo a passarsi la palla allo stesso colore di Mali e quindi era un problema.